Detta Kiko, lei è il buon dell'Electric Show Dance Vai! 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 Federica Anasi, Alessandra Anasi e Roberta T Parte Kiko su Electric Show Dance Tempo da battere 1.33.94 Secondo posto 1.34.98 di Stefano Piumi Però la battaglia era tra... Gianmarco Dovanini 1.38.37 Contro l'1.49 di Luca Abusin Via! Via! Vai! Vai! Una grande performance per il Filo d'Oro Il Filo d'Oro, grande il tempo! Manuel! Yeah! Grande Emanuele ci siamo! Siamo lì vicino! Grande anche la performance di Emanuele Emanuele! Emilia! Vai! 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 Emanuele! Vai! Vai! Vai, vai! 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 e lasciare due palline nel pole bending a cancellarlo anche Federico Onasi e Alessandra Onasi poi avremo Roberta Attili e lo chiede la prova 153-01 1-53-01 per Diana Grazi Delta Chico